Cari amici anziani, ma vorremmo dirvi cari nonni, siamo giovani della comunità di Sant'Egidio di Pavia. Per noi giovani è molto strano non poter uscire, vedere i nostri amici, andare a scuola o all'università. Costretti a casa dall'epidemia di coronavirus. Ma con questo messaggio vogliamo pensare a voi. Che siete più spesso soli in casa, magari con la compagnia di una tv che oggi ci dà solo notizie tristi. Lo sappiamo, per sconfiggere questa epidemia è importante restare a casa. Dobbiamo stare distanti, ma crediamo che questa epidemia non debba diventare un'epidemia di solitudine. La distanza separa i nostri corpi, ma non i nostri cuori. Uno scrittore russo, Dostoevsky, diceva È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. Allora noi possiamo riempire queste giornate vuote di amicizia, di affetto e di parole. Siamo certi che torneremo presto ad incontrarci. Torneremo con più allegria nelle strade e nelle piazze. Impareremo il gusto di quello che prima davamo per scontato. Ma nel frattempo, stando a casa, possiamo sentirci al telefone e parlare insieme. Non vediamo l'ora di conoscervi, di ascoltare le vostre storie e le vostre difficoltà in questo momento così difficile. E allora chiamateci! 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 Questo è il nostro numero. Chiamateci! 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 Chiamateci!